Musica Questa parte della storia mi ha sempre affascinato e quando ho saputo che la scuola dava questa opportunità l'ho colta al volo per provare a vedere cosa provavano i deportati per vivere come loro ho deciso anche io di prendere parte a questo viaggio perché appunto sono convinto che visitare Auschwitz di persona renda meglio l'idea di quello che hanno subito subire i deportati più che leggere dei freddi dati da un libro di storia o anche da un documentario qualsiasi vederlo di persona sono convinto che è un'esperienza che possa anche cambiare una persona Ho deciso anche io di partecipare a questo viaggio perché penso che sia importante non dimenticare ciò che è successo soprattutto per noi giovani e quindi credo che visitare Auschwitz sia comunque un'opportunità valida Allora anche ho voluto partecipare a questo viaggio principalmente perché è un'esperienza secondo me che tutti nella vita dovrebbero fare per capire soprattutto qual è stata la problematica appunto per la razza ebraica e la loro persecuzione e fa capire molte cose Ho deciso di partecipare a questo viaggio a Auschwitz perché praticamente vuol dire con i miei stessi occhi dove vivevano i deportati come vivono i deportati e comunque sentire anche dai racconti che vi verranno fatti sia sul posto che per esempio sul treno che vedremo l'intuità che faremo sul treno un po' la vita di queste persone Grazie